Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un interessante saggio pubblicato da pochissimo da Francesco D'Amato, editore, dal titolo Dante tra diritto e letteratura del professor Marco Galdi, che abbiamo il grande piacere di avere il nostro gradito ospite, al quale io, come mia abitudine, lascio subito la parola perché ci parli di questo saggio. Prego, professore, a lei. Prima di tutto grazie dell'invito e un saluto a chiunque ci stia ascoltando. Questo saggio nasce un po' dal lavoro degli ultimi anni perché costituisce la raccolta di tre diversi articoli pubblicati, il primo nel 2017, il secondo nel 2019 e il terzo nel 2021. I tre saggi rappresentano di fatto i tre capitoli di questo libro. Il primo ha un taglio più generale perché affronta il tema più generale dei rapporti fra Dante e il diritto. Il secondo, invece, affronta il tema dei rapporti, diciamo, come dire, il tema della concezione politica dantesca e quindi rilegge la monarchia di Dante, soprattutto nel rapporto con il pensiero politico di Aristotele. Il terzo, invece, rilegge la monografia di Hans Kelsen scritta a 24 anni nel 1905 da questo grande studioso tedesco quando aveva appena 24 anni. Praticamente, come dire, questi due saggi sono accomunati dall'unico tema, Phil Rouge, che è appunto il rapporto fra Dante e il diritto. Un rapporto che posso dire si iscrive nella tradizione della cultura greca e latina, soprattutto greca. Il rapporto con Aristotele è strategico da questo punto di vista e Dante, come Aristotele, considera il diritto una espressione diretta della giustizia che per Dante ovviamente è giustizia divina. E questo lo si può leggere in varie opere dantesche, ovviamente nelle sue rime, ad esempio Tre donne intorno al cor mi sono venute, in cui le tre donne appunto sono rispettivamente la giustizia divina, la monarchia, che è una definizione di grandissima attualità, se consideriamo che, ad esempio, Gustavo Zagrebelsky, presidente emerito della Corte Costituzionale, in un volume del 2017 intitolato Il legno storto della giustizia che pubblica insieme a Gerardo Colombo, praticamente ripropone la definizione che dà Dante nella monarchia di diritto, cioè che il diritto è sostanzialmente la congrua distribuzione, cioè la giusta distribuzione di cose e persone che se appunto sussiste da garanzia di stabilità alla società, se invece viene meno, fa venire meno il vincolo sociale e crea corruzione. Questa ovviamente è un'idea molto prossima all'idea di giustizia, all'idea aristotelica di giustizia che appunto congrua distribuzione, cioè equa distribuzione fra cose e persone. Un'idea ovviamente molto attuale se consideriamo che oggi in qualche modo il diritto legittima ha anche profonde diseguaglianze nella società, fra nazioni e che quindi meriterebbe di essere indagata e ripresa. Interessante, mi permetto di dire, è il secondo capitolo di questo studio, io ne faccio una panoramica molto veloce, dove sostanzialmente si ripercorre questo rapporto con Aristotele, sia l'aristotele della politica che era stata da poco riscoperta in occidente, sia l'aristotele dell'etica, dell'etica anticomaco, sia l'aristotele del peribasileias. Questa è la parte un po' più interessante di questo volume, perché praticamente andando a indagare questo scritto che è molto discusso, se sia aristotelico o meno, e cioè la lettera sul regno che si presume Aristotele abbia scritto al suo pupillo, perché Alessandro Magno era stato appunto allievo di Aristotele, però per esempio Luciano Canfra oggi ritiene che sia uno scritto autentico e dicevo, andando a ripercorrere questo scritto si notano una serie di coincidenze fra quanto Dante scrive nella monarchia e appunto lo scritto sul regno, la lettera scritta da Aristotele ad Alessandro Magno. Abbiamo fatto una lettura sinottica fra queste due fonti e vi sono molteplici corrispondenze. il che devo dire rappresenta una novità, una chiave di lettura nuova che devo dire abbastanza inedita. Peraltro giustifica anche un po' la rottura dell'impostazione dantesca, perché Dante fino ancora alla commedia afferma leggi son ma chi pon mano ad esse, cioè in qualche maniera il diritto già esiste e manca chi lo faccia rispettare. E il riferimento evidentemente alla concezione ancora medievale, per cui il diritto compiuto è quello giustinianeo, quello della cosiddetta razioscripta, così sarà altrove dallo stesso Dante definito il diritto romano. Mentre invece nella monarchia Dante arriva a dire che il compito dell'imperatore è di porre le reggi, ma se il diritto c'è perché porre le leggi? Evidentemente perché sulla monarchia deve aver influito la concezione che ritroviamo nel Pri Basileas che parallelamente dice che è il compito dell'imperatore quello di fare le leggi. Un tema molto interessante riguarda tutto il diritto medievale rispetto al quale un momento di rottura significativo è rappresentato, come per tutto il Medioevo devo dire, dalla straordinaria figura dello stupor mundi e quindi di Federico II, perché Federico II in qualche modo va a rompere proprio questa idea della unicità, dell'irripetibilità del diritto romano quando nelle sue costituzioni melfitane va a affermare la possibilità che dal suo grembo, dirà in una di queste costituzioni, è legittimo che nasca nuovo diritto. Però Dante questo nella commedia non lo ammette, legge ci sono ma chi può mano ad essa, invece nella monarchia lo ammette evidentemente a mio avviso per influsso di questa lettera di Aristotele ad Alessandro. Poi giusto per completare la panoramica, l'ultimo saggio rilegge lo scritto di Kelsen, uno scritto giovanile che lo stesso Hans Kelsen, che fu il padre della dottrina pura del diritto e considerato insieme a Smith, il più grande giurista del ventesimo secolo, Kelsen appunto stesso nella sua autobiografia definirà uno studio giovanile, ma che sostanzialmente invece rappresenta un approfondimento ovviamente di questa tematica. Kelsen indaga il contesto delle letture medievali di Dante e lo considera come il primo autore che abbia scritto una monografia di diritto pubblico. Non a caso lo stesso titolo di questo scritto di Kelsen parla di Stats Leere, cioè dottrina dello Stato, che poi è il titolo con cui per esempio uno degli allievi di Kelsen, cioè Jelinek, intitola il suo volume principale, quindi lo considera come un antesignano dei docenti di diritto pubblico che Kelsen ha incontrato nella sua formazione. Uno scritto, peraltro quello di Kelsen, che però tiene conto soprattutto della dottrina di lingua tedesca, indaga poco anche gli scritti dello stesso Dante non in lingua latina. Kelsen ovviamente conosceva bene il latino meno l'italiano e che dunque, come dire, ha una funzione più ricostruttiva del pensiero dantesco, senza contribuire in modo significativo, a differenza degli studi sulla dottrina pura che elaborerà più tardi. Però anche Kelsen, devo dire, quando poi si occuperà nella sua produzione più tarda di diritto internazionale, e lì ancora una volta influirà il pensiero dantesco perché Kelsen si pone in qualche modo in continuità anche con Kant sulla pace perpetua, il discorso dell'universalismo, e indubbiamente la lettura della monarchia dantesca, della pace attraverso il diritto, avrà influito anche poi sugli studi di diritto internazionale di Kelsen. Questo è il terzo capitolo. Ovviamente mi fermo qui perché sarebbe difficile poi in poche battute riassumere tre tematiche così complesse, ma spero di aver dato un inquadramento di questo volume. Beh sì, deve essere estremamente complessa come lettura perché indaga una veste di Dante che non è quella abituale, cioè più che come letterato, quasi come giurista. Ma indubbiamente, per la verità ovviamente Dante non fu un giurista, ovviamente, ma nella cultura degli intellettuali della sua epoca il diritto era una componente essenziale. Dante frequenta molti giuristi, ma lo stesso Brunetto Latini era un notario, molti altri suoi amici erano giudici, eccetera. I primi documenti che riportano poi la Divina Commedia sono stati scritti per lo più da cancellieri. I cancellieri utilizzavano i versi della Divina Commedia, probabilmente mentre Dante era ancora vivo, per completare la parte giuridica dei loro testi e addirittura abbiamo degli studiosi di diritto successivi a Dante che lo citano fra le fonti. Quindi fu percepito come molto prossimo al diritto e non a caso la prima immagine che noi abbiamo di Dante Alighieri è ancora oggi insieme a Boccaccio nel palazzo dei tribunali a Firenze, dove appunto è ripresa e vi è un affresco di Dante di Boccaccio. Per dire che i giuristi lo considerarono molto prossimo a sé. D'altra parte, un po' tutta la commedia, se riflettiamo, è come se fosse un trattato di diritto penale. Il peccato è nel contrapasso, la punizione. E peraltro, devo dire, anche gli studi ultimamente stanno affrontando spesso questa tematica dei rapporti fra Dante e il diritto. Ci sono studiosi americani che se ne sono occupati, per cui non è poi così tralaticia come tematica. Anzi, ultimamente c'è anche la Francesca Maier di Cottingen tedesca che se ne è occupato. È un tema che attualmente sta interessando molto e che, devo dire, riserva anche aspetti di grande interesse non solo per i letterati, ma anche per i giuristi. E quindi bisogna andare a comprarsi questo saggio per farsene un'idea più approfondita. Io per questo ricordo il titolo, che è Dante tra diritto e letteratura, pubblicato da pochissimo da Francesco D'Amato Editore, scritto dal dottor Marco Galdi, ed è anche una spesa bella sostenibile perché sono 156 pagine per soli 14 euro. Quindi correre in libreria per scoprire questo rapporto tra Dante e di Dante con diritto e letteratura, che è abbastanza, come dire, innovativo, direi così. Io la ringrazio molto, professore, per aver accettato il nostro invito. La ringrazio io della disponibilità e sono felice di aver trascorso qualche minuto con loro. Buona serata e buon lavoro. Grazie ancora. Arrivederci. Arrivederci. Allora. Grazie a tutti. Grazie a tutti.